Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. Oggi prepariamo insieme i maritozzi. Sono delle pagnottelle ripiene di panna montata tipiche della tradizione romana. Ne esistono di differenti varianti, salate, senza glutine, vegane, ma noi vi proponiamo quella classica con la panna. Le lontane radici di questo dolce sono ai tempi dei romani. Quando veniva preparata questa pagnotta arricchita con miele e uvetta, facile da portare e mangiare. In epoca moderna molti poeti, artisti e perfino studiosi della tradizione romana raccontano che un tempo era un dolce da regalare alla propria ragazza. Infatti all'interno della farcitura si celava questo anello o gioiellino d'oro. Per questa occasione il ragazzo assumeva il nome di maritozzo, da qui il nome del dolce. Sono davvero semplici e veloci da preparare e vi assicuriamo che i vostri cari rimarranno estasiati già dal primo borso. Iniziamo! Iniziamo la ricetta mettendo in una ciotola 100 ml di acqua tiepida, 10 grammi di miele fuso e diamo una mescolata con una marisa. Aggiungiamo 7 grammi di lievito secco e 50 grammi di farina zero, poi amalgamiamo tutti gli ingredienti. Copriamo con pellicola e mettiamo in forno spento solo con la luce accesa per 30 minuti. Poi prendiamo una ciotola capiente e mettiamo 470 grammi di farina zero o manitoba e aggiungiamo il lievitino. Guardate come ha lievitato bene! poi 150 ml di latte tiepido, 70 ml di olio di semi, 110 grammi di zucchero, 2 uova, la scorza di un limone e un'arancia e i semi di vaniglia. Mescoliamo con le fruste elettriche o un'impastatrice a velocità media. Arrivati a questa consistenza aggiungiamo 8 grammi di sale e continuiamo a mescolare per 15-20 minuti. L'impasto dovrà risultare liscio, appiccicoso ed elastico. Trasferiamo su un piano da lavoro ben infarinato. Lavoriamo l'impasto con le mani formando una palla. Togliamo la farina in eccesso se necessario e lo pirliamo alla fine. Prendiamo una ciotola capiente oleata e ci trasferiamo l'impasto girandolo per far arrivare l'olio ovunque. Copriamo con pellicola trasparente e mettiamo nel forno spento con la luce accesa per un'ora e mezza o finora doppio. Guardate che bell'impasto! Trasferiamo sul piano da lavoro e lo dividiamo in pezzi uguali da 70 grammi. Ci infariniamo appena le mani e formiamo i maritossi. Portiamo i lati verso il centro, poi pissichiamo per chiudere e diamo la forma con le mani. Ecco il maritozzo pronto! Continuiamo così con i restanti. Trasferiamo 7-8 pezzi ben distanziati per teglia con carta forno, poi copriamo con pellicola e li mettiamo nel forno spento solo con la luce accesa per 30 minuti. Sbattiamo un tuorlo con 2 cucchiai di latte e spennelliamo la superficie dei maritozzi. Cuociamo la teglia con i primi maritozzi formati a forno preriscaldato 180 gradi statico per 15-18 minuti massimo, ossia fino alla doratura. Sforniamo e lasciamo raffreddare completamente su una griglia. Qui volevamo farvi notare la consistenza soffice e leggera dei nostri maritozzi. Si rompono con un tocco! Siamo arrivati all'assemblaggio. Prendiamo un maritozzo e non lo tagliamo in mezzo bensì con un angolo di circa 30 gradi. Abbiamo montato 500 ml di panna da montare già zuccherata con i semi di vaniglia e siate generosi con la farcitura. Con una spatolina livelliamo la panna. Spolverizziamo con zucchero a velo vanigliato e guardate che belli! Continuiamo così con i restanti. Ok amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito sia l'assaggio e adesso gustiamo questi deliziosi maritozzi. Guardate che belli e pieni di panna! Adesso li ho detto! Sono fantastici, leggeri e soffici come delle nuvole. Hanno questo inebriante profumo di arancia e limone e la panna aromatizzata alla vaniglia bourbon con il suo gusto delicato completa il dolcetto romano. Insomma la loro golosità è paradisiaca! Sono perfetti! Assolutamente da provare! Bene amici, il nostro video si conclude qui. Vi piace il nostro canale? Iscrivetevi e lasciateci un bel mi piace! Non costa nulla ma a noi può fare la differenza! Ci vediamo nel prossimo video!